E ragazzuoli, ancora una volta siamo qui e quando sei qui che sei a più 4, sapete, vedendo com'era la situazione fino ad esempio prima della sosta, è ancora più bello, c'ha quel gusto abbastanza speciale, soprattutto quando finalmente, e lo capiremo andando avanti col video, il sistema interviene in maniera concreta, sottotraccia, come i vecchi tempi, come solo la Juventus migliore sa fare. Che te sai che basta che fai quelle due robettine, sganciando qualche milione, ma questo appunto lo vedremo dopo, e così, in 2-2-4 nel giro di tre partite, passi da essere pari in classifica, secondo per differenza reti mi pare, perché ancora non è conteggiato all'interno della classifica lo scontro diretto, dato che appunto ci dovrà essere anche Juve-Inter, giustamente, ma tu così, calmo calmo, facendo una robina, Tre partite, sei a più 4, e proprio per questo, per questo orgoglio nei confronti di questa Juventus che ancora sa fare il sistema a dovere, io vi invito a lasciare un mi piace, anche perché domani ragazzi uscirà un video speciale, forse il video più speciale di questo canale, Perché chi mi ha seguito su Instagram nel corso delle scorse ore, sicuramente avrà visto un qualcosa di speciale, un qualcosa di particolare, ma tutto questo lo approfondiremo meglio domani Detto ciò, ragazzi, comunque, lasciate un mi piace, anche perché comunque non capita proprio tutti i giorni, no, di essere a più 4, in particolar modo in questa stagione, in particolar modo in questo determinato periodo della stagione Detto ciò, ragazzi, premessa e partiamo E la cosa bella è che, come in pratica abbia appena detto, la Juventus è tornata a fare la Juventus, il sistema è tornato ad essere il sistema, facendo fondamentalmente una cosa e basta, acquistare un giocatore. Non ho ben capito che cosa c'entri il Parma, considerando che i soldi di fatto se li è presi l'Atalanta, però questo poi è un altro paio di maniche, perché, voglio dire, se i soldi se li fosse presi effettivamente il Parma, capirei, no? Ovviamente sto parlando di Kuluzeski, ma dato che i soldi se li è presi l'Atalanta, il Parma, cioè, in sostanza non ci ha guadagnato nulla, al Parma di per sé non è cambiato nulla, però rimane il fatto che comunque il semplice acquisto di Kuluzeski da parte della Juventus ti porta a dire Scans Parma, ma questo perché? Perché non tanto l'acquisto di Kuluzeski in sé, che poi comunque ci torneremo anche dopo, ma più che altro perché grazie all'acquisto di Kuluzeski a ridosso di Juventus Parma è arrivata anche un'altra notizia, l'ennesimo stop di Gervinio, che purtroppo per lui, un po' meno per noi, in sto caso fortunatamente per noi, appunto non ha avuto la possibilità di scendere in campo in Juventus Parma, e infatti ragazzi, Parma, altro stop per Gervinio, salta la gara con la Juve, tu chiamale se vuoi coincidenze e, e se so, brutta coincidenza, ma può capitare Gervinio out, Kuluzeski bianconero, e la Juve che vieta Piazza di passare al Parma, ma il campionato è regolare io sapevo di un interessamento del Cagliari per Piazza, comunque no, ovviamente non è regolare quando la Juventus inizia ad essere quel più uno, quel più due, quel più quattro, a livello di punti in classifica chiaramente inizia ad essere falsiato il campionato, giustamente si tirano in mezzo determinate cose, come per esempio gli arbitri, perché comunque la giornata di campionato, non tanto magari la partita della Juventus ma la giornata di campionato in effetti deve incominciare, perché senza di quella la Juventus fa fatica a essere a più quattro, la giornata inizia con Lazio Sampdoria e io, ragazzi, onestamente mi sono ritrovato un pochino spiazzato, perché ho visto sempre nei lastiali degli alleati solo che poi mi arriva questo commento che non mi arriva, nel senso, mi arriva che me lo mandate voi non è che mi arriva a me questo messaggio, però di fatto leggo solo i Juventini possono commentare le vittorie della Lazio e i gol di Immobile su rigore invidiosi, gelosi, nel senso, nel momento in cui Cristiano Ronaldo io non tendo proprio ad essere geloso di Immobile, però comunque in effetti ci può stare come ragionamento, ci mancherebbe non so descrivere, CR7 segna tutti i gol su punizione con la risata che, anche qui, io con tutto il rispetto, con tutto il bene che possa volere alla Lazio che proprio in caso di disperazione, meglio la Lazio che l'Inter, senza ombra di dubbio e anzi, quando la Lazio vince comunque dei trofei, magari anche a discapito della Juventus per quanto a me possa tirare il culo da tifoso juventino se li vince la Lazio, mi dispiace, ma il dispiacere arriva comunque fino a un certo limite, non va mai oltre però comunque ci rimani quando un tifoso della Lazio mi va per culare Cristiano Ronaldo ma vabbè, neanche uno, la maggior parte davanti la porta e su rigore falsi vincenti, vabbè, in fondo siete dei perdenti come le otto finali di Champions e quelle di Supercoppa l'ottava faccela perdere, tesoro mio, arriverà e a breve arriverà a breve speriamo almeno per vivere giusto le emozioni però arriverà, ma anche qui, con tutto sempre il bene un tifoso della Lazio che mi prende per il culo la Juventus sui trofei io mi posso impegnare ad accettare tutto quanto però non è che torna proprio tutto, tutto, tutto però comunque è giusto andare avanti perché comunque dopo il sabato c'è la domenica c'è il Milan che vince con l'Udinese, va bene e poi comunque c'è Lecce e Inter e a sorpresa arriva un pareggio e finita la partita comunque è giusto fare questo tipo di riflessioni proprio perché appunto nel momento in cui si incappa in qualche passo falso bisogna tirare fuori certi argomenti del tipo con questi arbitri è impossibile vincere lo scudetto puoi prendere anche Ronaldo edizione 97 che vi ricordo io, il vero Ronaldo però ragazzi appunto va accettato non c'è niente da fare, il sistema inizia piano piano ad intervenire e non è solo questione di Ronaldo edizione 97 neanche con l'attopundici della UEFA quando il sistema interviene riesce a sconfiggere la Juventus poi in Europa si vede fino al confine a differenza magari tipo che ne so dell'Inter, roba del genere però dopo lì purtroppo ci possiamo far poco ancora non siamo talmente tanto forti talmente tanto potenti da poter comprare gli arbitri anche in Europa un passettino alla volta si parte da Ronaldo si passa per De Ligt poi in futuro magari anche qualche arbitro riusciremo a ficarcelo dentro ma comunque è giunto finalmente il momento di far iniziare la partita e in sostanza non succede praticamente nulla perché l'unico episodio dubbio o più che altro l'unico episodio che avrebbe potuto scaturire delle polemiche è quello fischiato contro tra virgolette la Juventus dove l'arbitro tocca il pallone inizialmente fa proseguire l'azione poi Quadrado la passa di balla solo davanti alla porta l'arbitro interrompe l'azione che se fosse successo al contrario non so che tipo di commenti avremmo letto non so per quanto tempo avremmo letto un certo tipo di commenti però fortunatamente risparmiamo del tempo perché era un episodio che avrebbe potuto forse danneggiare la Juventus anche se mi pare almeno che l'arbitro abbia fatto comunque la scelta giusta e andiamo avanti perché la Juventus trova il vantaggio con Cristiano Ronaldo all'inizio in pratica del secondo tempo ci facciamo uccellare e il Parma trova momentaneamente il pareggio con Cornelius e da questo punto di vista la Juventus mi ha ricordato un pochino la Juventus d'inizio stagione dove ogni calcio d'angolo era un possibile gol subito solo che poi fortunatamente qualche minuto dopo veramente un paio di minuti dopo Cristiano Ronaldo riporta la Juventus in vantaggio e da quel parziale di 2 a 1 fortunatamente non ci si sposterà più però comunque è giusto fare attenzione a un certo tipo di cose è giusto fare un certo tipo di riflessioni del tipo il silenzio di compagnoni sull'1 a 1 e l'esultanza da Ultras per il 2 a 1 il manifesto del sistema colluso di questo campionato già deciso a tavolino il minuto di silenzio dopo il pareggio del Parma è qualcosa di memorabile se fosse finita così i giornalisti di Sky si sarebbero presentati domani tutti con lutto al braccio quanto è vero quello che scrivete il silenzio di compagnoni è da vomito non può esistere nel calcio tanto schifo e io pavo 40 euro al mese Sky sono un pagliaccio sì e poi appunto come detto prima finisce la partita sul risultato di 2 a 1 la Juventus vince la quarta partita su 4 nel 2020 va più 4 dall'Inter comunque c'è anche un motivo di fondo anche abbastanza importante perché comunque ieri c'è stato un grande Parma peccato per il fatto che costoro siano riusciti a condizionare il giocatore più forte che abbiamo le regole ridicole del nostro calciomercato dimostrano la pochezza del sistema calcio in Italia giusto perché comunque durante il mercato invernale da nessun'altra parte nel mondo una squadra può acquistare un giocatore che gioca nello stesso campionato effettivamente è una regola un po' ridicola e non è tanto la regola di per sé è la conseguenza perché che strano che Gervinio proprio contro la Juve era indisponibile mi sa che qua hanno fatto l'accordo noi ti lasciamo Kuluseschi fino a giugno ma in cambio ci fai vincere giusto il sospetto giusto il sospetto che poi ovviamente ti fa dire ennesimo campionato deciso a tavolino detto ciò ragazzi io vi ribadisco che domani ci vediamo vi voglio presenti vi voglio cariche per il video forse più bello almeno emotivamente parlando del canale io mi auguro che questo video un pochino magari impostato diversamente dal solito ma comunque vi abbia strappato un sorriso vi abbia intrattenuto a dovere noi ci vediamo domani mi raccomando io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza Juve e comunque ci tenevo a fare un caloroso saluto ai ragazzi della Nord grazie a tutti Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach